La sostenibilità è una parola chiave per ragionare di interazione, comunità, ecologia e dunque anche di cultura, la cultura che fin dalla sua etimologia è la capacità di coltivare, curare risorse, competenze, professionalità, felicità. Nelle scienze ambientali ed economiche per sostenibilità si intende uno sviluppo capace di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza per questo compromettere e bruciare i bisogni delle generazioni future. Questi bisogni sono materiali ma sono anche contemporaneamente bisogni culturali che tengono insieme e fanno dialogare passato, presente e futuro, interessi e culture particolari e interessi, culture e linguaggi universali. Proprio da questo incontro, da questa disponibilità a sostenere il mondo sentendosi sempre e contemporaneamente anche straniere e stranieri nasce la cultura della sostenibilità che dunque può essere progettata non solo in termini economici, materiali, ambientali ma anche culturali. Grazie a tutti.